Buonasera a tutti, benvenuti allo Spazio Life, questa sera abbiamo ospite Davide Battistini che è un attivista per i diritti animali che dal primo gennaio di quest'anno è in sciopero della fame per chiedere che la sua regione, la regione Emilia Romagna, vieti per legge l'uso della catena per i cani, cioè l'abitudine molto diffusa, non solo in Emilia Romagna, di tenere i cani perennemente legati ad una catena. Lo sciopero di Davide iniziato come dicevo il primo gennaio ha suscitato per fortuna l'interesse e anche l'attiva solidarietà di molti attivisti, quindi di singoli individui sensibilizzati sul problema e anche di parecchie associazioni animaliste che si sono unite in questa iniziativa non violenta, ne citiamo solamente alcune, per esempio l'associazione Oltre la specie si è unita al digiuno di Davide nella persona di un loro iscritto che ha digiunato per 6 giorni in solidarietà con questa lotta, poi ci siamo uniti noi di parte in causa che il 27 gennaio abbiamo indetto un digiuno a staffetta tra i nostri iscritti, digiuno che è tuttora in corso, subito dopo si è aggiunta l'associazione Restiamo Animali che anche attraverso una stazione radiofonica ha lanciato un altro digiuno a staffetta che ha raggiunto oltre 70 adesioni e successivamente si è anche mossa per esempio la LAV nazionale che con dei comunicati ha sollecitato la regione ad esprimersi in tal senso e altre associazioni che adesso non riesco, non ho tempo di nominare per il momento però la politica pare abbia dato risposte del tutto insoddisfacenti al punto che Davide ha annunciato che tra una decina di giorni inizierà lo sciopero della sete e naturalmente non serve sottolineare che questa decisione sia estremamente grave e pesante. Allora senti Davide, intanto sei tutto, grazie per aver accettato questa intervista, purtroppo ci sono stati problemi di video quindi ti sentiremo solamente senza vederti, ahimè. Comincio con una domanda personale, come ti senti dopo 38 giorni di sciopero della fame? Sì, ciao a tutti, sono 39 i giorni di digiuno, mi sento abbastanza bene, sono dimagrito 14 chili dal primo di gennaio, quest'anno non ho mai mangiato e non ho mai perso la volontà di continuare e continuerò fino a quando queste catene tutti insieme le spezziamo perché è una vera vergogna tenere un essere vivente condannato all'ergastolo, attaccato a un muro, a un albero, a un palo senza che abbia commesso nessuna, non abbia nessuna colpa per avere questo ergastolo. Senti Davide, infatti poi parleremo diffusamente della situazione dei cani alla catena, senti assumi qualcos'altro oltre ad acqua, dei succhi, qualcosa che ti aiuti a tenerti su? In questi 39 giorni il mio alimento, la mia energia, anzi la mia energia mi correggo, i miei alimenti sono stati acqua, sale himalaiano che è ricco di oligo e elementi, sali minerali, vitamine, diciamo un 7-8 centrifugati di verdure e qualche tazza di brodo vegetale, io sono vegano. Senti, veniamo un po' a cercare di capire quelle che sono state finora le reazioni della politica, chiamiamola così, c'è stato un lungo silenzio e da un certo punto in poi qualcosa è iniziato a muoversi, per esempio abbiamo ricevuto anch'io come segretaria di parte in causa un comunicato della consigliera regionale dei Verdi Gabriella Meo, la quale ha sottolineato, cosa che avevamo sottolineato anche noi tra l'altro nella nostra lettera a tutti i consiglieri, che non serve una nuova legge in quanto si tratterebbe semplicemente di far applicare la legge del 2005 sul benessere animale, legge regionale che già esiste e che è molto esplicita nel dichiarare ovviamente che è necessario garantire un'adeguata possibilità di esercizio fisico all'animale e quindi è evidente che l'uso della catena sia incompatibile con questo obbligo, quindi qualcosa si è mosso a un certo punto, che cosa mi dici dell'iniziativa dei Verdi? So che è stato presentato un emendamento che però tu hai giudicato insufficiente. Certo, intanto vorrei dire ai nostri ascoltatori che avranno curiosità, che avranno tutte le informazioni dal primo di gennaio ad oggi che è il 39esimo giorno e il blog si chiama scatenarediritti.blogspot.com lo ripeto scatenarediritti.blogspot.com e questa proposta del PD e dei Verdi l'ho ritenuta assolutamente insoddisfacente, irricevibile, era un tentativo di vanificare lo sforzo di migliaia di attivisti in tutta Italia, ad oggi siamo quasi a 11 mila firme sulla petizione pubblica che trovate su www.petizionepubblica.it categoria diritto e giustizia, il link è stop cane la catena in Emilia Romagna, è stato un tentativo di raggirare questo sforzo della politica, una politica becera di voler avere i piedi sempre in 3 o 4 staff e mai fare una scelta di civiltà, appena abbiamo fatto sapere che era una proposta irricevibile l'abbiamo scritto sul blog, la Lega Nord che in modo molto valoroso aveva ritirato la propria proposta di legge pubblicata, protocollata nel luglio 2012 affinché venisse approvata una legge di abolizione delle catene, perché dovete sapere che in Emilia Romagna esiste una legge non scritta, tutte le leggi proposte dall'opposizione vengono rifiutate a prescindere, per cui la Lega Nord con grande dignità ha ritirato la propria proposta pur di fare approvare la proposta a nome del PD, c'è stato un incontro ufficioso, avevano concordato questa proposta di legge tutti quanti assieme e di notte è successo qualcosa di strano, la mattina è stata protocollata una proposta di legge, quella PD Verdi, totalmente diversa da quella che era stata concordata. La Lega Nord ha fatto un'ansa in cui si prendeva le distanze da questa proposta in quanto non riceveva, non faceva sua la proposta di 11 mila persone, a quel punto lì il PD ha fatto retromarcia e adesso sembrerebbe che quello che propongono per martedì dove ci sarà un voto all'unanimità ci sarà l'abolizione delle catene, staremo a vedere, io non credo minimamente alle promesse dei politici, ma non sono io che non lo credo, è uscito un libricino molto valido di Maurizio Viroli che si intitola, mi sembra, Il principe consigli ai cittadini per valutare i propri politici e Machiavelli già tantissimi secoli fa diceva guarda le mani di un politico non negli occhi, che nella vulgata attuale vuol dire credi ai fatti e non alle chiacchiere dei politici. Senti Davide, se ho ben capito, non però, il punto di controversia sull'emendamento dei verdi riguardava il fatto che l'emendamento sembrava escludere dal divieto di catena i cosiddetti cani da lavoro, cioè quelli da tartufo, da caccia, eccetera, eccetera, ma è così, era effettivamente così oppure c'è stato un fraintendimento? Allora, noi abbiamo posto sul blog dieci domande ai verdi dicendo che chiariscono questa loro proposta confirmata dal PD e i verdi dell'Emilia Romagna dicono assolutamente no, il dubbio che avete voi animalisti e voi 11 mila attivisti che avete firmato la petizione non è veritiera, cioè state tranquilli perché la proposta che abbiamo fatto noi PD e verdi, dicono i verdi, prevede l'abolizione dei cani, l'abolizione della catena a tutti i cani e addirittura tutti gli animali da compagnia, a prescindere dall'utilizzo che se ne fa, esclusi gli animali da produttività e da, adesso mi sfugge il termine, quindi ci sarà libertà solamente per gli animali da compagnia e questo dubbio che avevamo avuto noi, loro lo escludono, però questo dubbio l'abbiamo avuto noi, l'ha avuto la Lega Nord, l'ha avuto SEL che sarebbe Sinistra Ecologia e Libertà, che SEL ha fatto un comunicato stampa veramente tardivo, al 38esimo giorno di digiuno hanno fatto un comunicato stampa di SEL a firma di Giovanni Paglia che è un candidato di SEL per la Camera dei Diputati a Ravenna, dove sul blog potete leggerlo, finalmente un politico che parla chiaro e questo Giovanni Paglia di SEL dice che la proposta PD Verdi per gli animalisti è totalmente ricevibile e noi di SEL ci sentiamo di respingere totalmente, quindi siamo un po' in troppi ad aver avuto un dubbio su questa proposta PD Verdi. Ho capito, però c'è ancora la speranza che questo dubbio venga fugato dal voto di martedì, quindi staremo a vedere che cosa succede martedì, giusto? Non tutto è perduto in questo senso. Certo, la prima proposta PD Verdi, una volta che c'è stata la relazione della Lega Nord e del mio blog dove dicevo che non avrei fermato il digiuno con questa proposta perché era una presa in giro e che li avvertivo e li avverto che il 17 di febbraio inizierà lo sciopero della sete. Io mi fermo quando vedrò dei fatti concreti, 39 giorni di digiuno sono lunghi, sono dolorosi, c'è stata un'energia spesa da parte di migliaia di attivisti e quindi tutto questo si fermerà quando avremo concretamente un risultato. Io non mi fido e non mi fermo con lo sciopero fino a che non c'è un fatto concreto. Tra l'altro è opportuno ricordare a questo proposito che non solo si tratterebbe di applicare sostanzialmente una legge regionale già esistente sul benessere animale, ma si tratterebbe anche di applicare lo spirito e la lettera di una sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che per configurare un reato di maltrattamento non è richiesta la lesione fisica dell'animale, essendo sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità. Questa è una sentenza che tu riporti anche all'inizio del tuo blog e che hai riportato nella lettera che hai inviato al Presidente della Regione Emilia. Senti, a questo proposito il Presidente Vasco Errani si è fatto sentire, ha preso qualche impegno? Ma guarda, si è fatto sentire indirettamente attraverso un comune amico che io conosco da 15 anni e lui lo conoscerà probabilmente da più tempo. Questo comune amico ha fatto due telefonate a distanza di 15 giorni cercando di convincermi a smettere lo sciopero della fame e di non intraprendere assolutamente lo sciopero della sete. Dopo due o tre volte che mi ha chiesto questo stop, gli ho detto guarda, non perdiamo tempo in due, io non mi fermo a fare lo sciopero della fame e tantomeno ho dei dubbi a iniziare a quello della sete. Ho dei doveri rispetto verso me stesso e soprattutto dei doveri verso 11 mila firmatari e tutti gli attivisti che si stanno muovendo con digiuni a staffetta e facendo il mail bombing, comunicando nelle piazze. Stasera a Ravenna davanti al concerto di Battiato ci sono otto attivisti romagnoli che fanno volantinaggio per chiedere altre firme, quindi come ha detto un gruppo anarchico che mi ha contattato via Facebook, rispondo a tutti quelli che mi chiedono, che mi vogliono bene, Davide fermati perché sei a un passo da avere effetti dannosi alla salute irreversibili. A tutti quanti dico, ogni lotta di liberazione chiede dei presti da pagare, io fin da un anno fa quando ho iniziato a pianificare questa lotta non violenta, questa lotta gandiana, mi sono chiesto se avessi avuto il coraggio di farla e portarla a termine. Quando ho iniziato il primo di gennaio non ho mai fatto un digiuno in vita mia, ho avuto paura di fare la figura di quello che poi non è una figura, perché quando uno si spende può anche non avere la forza di farlo ed è già onorevole scendere in campo per combattere, poi magari non ce la fa e si ferma, tanto di cappello anche queste persone qui. Io ho iniziato senza sapere nulla e ho solamente buttato il cuore dall'ostacolo e gli sono corso dietro. Oggi posso dire tranquillamente che sono sereno, voglio vivere e non ho paura di morire, ma quello che voglio, voglio mettere queste catene nel passato, non voglio più che la mia regione gli dia ospitalità e quindi vi assicuro che non mi fermerò e come dicono questo gruppo anarchico, mi ero un attimo perso, il mio corpo non è più il mio ma è diventato un concetto di libertà. Quindi il governatore Vascherrani che mi contatta attraverso interposta persona deve stare sereno, lui ha la mia vita in mano, ne faccia quello che crede, io vado avanti, mi ritengo un attivista per i diritti animali senza alcuna paura di morire, ho un gran amore per la vita, sono consapevole che la libertà non te la regalano, i diritti non te li regalano e quindi lui ha due scelte, o accettare che 11 mila persone hanno firmato una petizione e lui è obbligato ad ascoltarle, perché è ora che la casta politica scenda dal loro trono e dal loro monastero sordo alle richieste della società civile, oppure può non ascoltarle e trovarsi una persona in fin di vita sotto elezioni, io sono tranquillo e sereno. Senti Davide, parliamo un po' dei cani alla catena, in un post recente del tuo blog ho visto un video abbastanza raccapricciante di una situazione che immagino sia molto comune, molto diffusa in Emilia e credo purtroppo non solo in Emilia, c'era un recinto molto piccolo che conteneva dei cani e il pavimento era completamente ricoperto di feci, c'era sporcizia ovunque, le ciotole per l'acqua sembravano vuote, quindi è una situazione assolutamente incivile e crudele, quanto diffuso è questo modo di tenere i cani in Emilia? È una situazione che riguarda soprattutto le campagne? Allora, il video che hai visto l'ho girato nel pieno centro di Russia, a 10 km da Ravenna, è una cittadina ricchissima, è un comune ricchissimo, è uno dei comuni inutili, uno delle migliaia di comuni inutili dell'Italia, è un comune microscopico, ma ha la sua bella giunta che si ingrassa con le nostre tasse, è nel centro del paese, a 500 metri dal municipio, quindi è il video che fotografa il totale disinteresse dei diritti degli animali, qui ci troviamo in una nazione dove non solo bisogna lottare per ottenere delle leggi, poi bisogna lottare per ottenere l'applicazione delle leggi. Vi ricordo che nel 2008 siamo riusciti a chiudere, io ho fatto una mail, sono andato a visitare questo canile lager a 3 km da Mirabilandia, che è un parco giochi vicino a Ravenna, a 3 km c'era un canile lager conosciuto da tutte le istituzioni, c'erano dentro 250 poenter, torturati con la fame, la sete, il freddo, la fame, il veterinario padrone di questo canile li allevava, diceva lui con il metodo da Ravignano, portava da mangiare per 100 cani al giorno su 250, perché diceva che i deboli dovevano diventare cibo per i forti, faceva partorire le femmine in mezzo ai cani maschi affamati, perché diceva che dovevano, se era brava questa femmina e forte a difendersi durante il parto dall'aggressione multipla di più cani maschi, avrebbe dato alla luce dei cani geneticamente forti e quindi lui aveva un reddito, altrimenti lei e i cuccioli dovevano diventare cibo per i cani forti. Questo lager l'abbiamo chiuso solamente perché ho fatto una mail con una foto incredibile che è degna del Museo dell'Olocausto, questa mail che l'ho inviata a una ventina di contatti nel web, è rimbalzata immediatamente in tutto il web, è finita in Parlamento, è finita al Parlamento europeo, è finita su tutti i Tg nazionali. Per chiudere questo lager, tutelato o comunque nel più disinteresse totale delle istituzioni della Ravenna democratica, siamo riusciti a chiuderlo con l'indignazione del web, con l'azione di Francesca Martini, ex, allora era sottosegretaria alla sanità del governo Berlusconi, leghista e animalista, c'è purtroppo questa contraddizione ma ha un gran rispetto per gli animali e con l'aiuto di Manfredini che è questo capogruppo della Lega Nord di Bologna che anche lui ha dato una gran mano, hanno mandato loro la Francesca Martini, hanno mandato il NIRDA da… mi senti ancora? Sì, sì, sì. Hanno mandato il NIRDA del gruppo specializzato all'interno della forestale da Roma, dal Ministero, sono arrivati in Ravenna, hanno filmato e immediatamente hanno sequestrato tutti i cani. Questa è la dimostrazione… perché ho aperto questa parentesi un po' lunga? Per dirti che quando le istituzioni non fanno quello a cui sono obbligate a fare e sono strapagate, io qui mi indigno, sono persone che sono strapagate per tutelare gli animali e fare altro che non posso dire. Queste persone non sono in corso in nulla, sono ancora tutte quante lì a percepire lo stipendio grasso che noi gli assicuriamo. Ecco perché vedi dei video a russi in pieno centro, perché queste persone dell'USL veterinaria sono ancora tutte quante lì e non vedono mai nulla, non vedono mai un maltrattamento. Senti Davide, intanto ne approfitto per riferirti a alcuni messaggi che arrivano dalla chat, c'è Fabio Serrozzi che scrive «Grande Davide, pieno sostegno e appoggio alla tua iniziativa, stiamo organizzando la catena, l'unica catena che condividiamo di solidarietà, ieri è toccato a me, si riferisce ovviamente allo sciopero a staffetta, al digiuno a staffetta». Poi abbiamo Giorgia Martino che dice «Davide è uno dei pochi eroi che abbiamo, siamo tutti tenuti a sostenerlo». Poi Andrea Festa «Forza Davide, oggi e domani tocca a me, quel che dici in fondo è nuova forza a questa protesta non violenta e al movimento di liberazione animale». Ecco, questi messaggi venivano dalla chat di Liberi TV di chi ti sta seguendo in questo momento in diretta. Senti Davide, volevo chiederti, in uno degli ultimi post sul tuo blog, tu fai addirittura una proposta di legge sul benessere animale, una proposta articolata in nove punti, che parla non solo di divieto della catena, ma anche per esempio di caratteristiche che deve avere il recinto, caratteristiche della cuccia, contenitore per l'acqua. Credi che ci siano possibilità che questo tuo suggerimento venga recepito e da dove hai preso questi punti che includi in questa tua proposta di legge? «Questi punti li ho presi da 30 anni di attivismo animalista, ho visto delle cose incredibili in giro per la Romagna, questa Romagna di cui mi vergogno, anche se in giro per l'Italia è considerato un posto civile, sarà civile ma verso gli animali potrebbe benissimo essere una provincia spagnola o sudamericana. La proposta che ho fatto io, mi hanno già detto che viene bocciata, non viene recepita con delle scuse del legalismo, comunque noi le aspettiamo al Varco, vediamo quale legge approveranno, se è una legge valida, una legge che abbia dignità da terzo millennio o da medioevo, staremo a vedere, noi giudichiamo i fatti. Volevo un attimo prima di dimenticarmi fare un piccolo inciso, innanzitutto voglio ringraziare tutti quanti gli attivisti che hanno firmato e che stanno facendo il digiuno a staffetta. Io lavoro in una municipalizzata e ho un collega che è un radicale sfigatato e tutti i giorni ascolta Radio Radicale, io ho forze di ascoltare Radio Radicale e quel pasto santo di Marco Pannella nei miei mesi che lavoravo e sentivo Radio Radicale mi è venuto in mente di fare questo sciopero della fame, quindi è una cosa bella che quando la gente parla alla radio e forse pensa che stia parlando a nessuno, vi assicuro che si gettano dei semi nel vento che poi attecchiscono nelle menti che sono pronte a reagire e quindi ringrazio Radio Radicale e ringrazio anche Parti in Causa, il cui comunicato stampa secondo me e che ho postato sul blog si distingue per la raffinatezza del linguaggio usato. Grazie, abbiamo chiesto la consulenza di un nostro iscritto giurista che si è studiato un po' di leggi. Senti, volevo chiederti, hai avuto copertura dalla stampa nazionale e regionale e so che sei finito sul Tg3, se non sbaglio a un certo punto, i giornali locali hanno pubblicato qualcosa sulla tua iniziativa? Giovanna fai delle domande che veramente sono pertinenti di brutto, perché con questa tua domanda voglio raccontare cosa vuole dire la censura nel 2013 in Italia nei media, allora Tg3 Rai che ringrazio mi ha intervistato mi sembra al 36esimo giorno di digiuno, fino al 36esimo giorno di digiuno sono un Tg regionale, secondo loro 36 giorni di digiuno di un cittadino romagnolo non è ancora una notizia, però al 36esimo giorno mi hanno mandato le videocamere e li ringrazio. Voglio parlare di un giornale ridicolo che è l'Unità, il giornale fondato da Antonio Gramsci e di un giornale come Repubblica, La Repubblica, che è un altro giornale ridicolo e vi spiego il perché. Repubblica io l'ho letto da quando avevo 19 anni fino a quando hanno aperto il fatto quotidiano, ho abbandonato Repubblica dopo averla letta tutti i giorni per più di due decenni, perché era diventata il gazzettino del PD, mi ero stancato di vedere che se pioveva era colpa di Berlusconi, se c'era il terremoto, se c'era lo tsunami in Giappone era colpa di Berlusconi, era sempre colpa di Berlusconi e allora l'ho abbandonata per il fatto quotidiano. Repubblica fino a 35 giorni di digiuno, nonostante sia stata bombardata di mail nella redazione di Bologna, non ha mai pubblicato niente se non un trafiletto, adesso quando ha visto che ormai non è più possibile censurare, hanno pubblicato qualche articolo, ma pochissimo. Passiamo all'unità, questo giornale indecente, l'unità è fondata, vorrei che gli ascoltatori ascoltassero con attenzione, l'unità è un giornale fondato da Antonio Gramsci, Antonio Gramsci ha fatto un discorso che ha detto odio gli indifferenti, nella vita bisogna essere partigiani, bisogna essere parti in causa, non bisogna stare a guardare le battaglie, bisogna scegliere qual è il giusto e poi scendere in trincea con chi combatte. Vi dico che questi giornalisti indecenti, questa redazione indecente, questa redazione che non conosce nemmeno le proprie radici, ha ignorato totalmente e ignora fino ad oggi a 39 giorni di digiuno, ha fatto un articolo che grida vendetta, nella cronaca di Bologna ha pubblicato un articolo che chi lo legge, io spero che la gente non lega solo l'unità perché veramente sono, io penso della gente che non vuole essere informata, ha scritto un articolo che se uno lo legge senza sapere nulla, se l'unica fonte di informazione è l'unità, si fa un'idea che il PD e i Verdi all'improvviso si sono svegliati e beh guarda facciamo una legge per abolire le catene dei cani, perché tutto il movimento degli 11 mila cittadini che hanno firmato, questa cara unità, questi 11 mila cittadini, sono 11 mila cittadini che si sono indignati come ha chiesto Antonio Gramsci, il vostro fondatore. Io voglio dire alla redazione dell'unità che a nome credo anche di tutti quanti 11 mila firmatari, fate schifo. Senti Davide, abbiamo ancora un paio di minuti, purtroppo il tempo vola e volevo chiederti c'è una ragione particolare per cui tu hai scelto il 17 febbraio come giorno in cui inizierai, almeno io spero che non lo farai, che non ne avrai bisogno, in cui inizierai lo sciopero della sete? C'è un significato particolare nella scelta di quella data? Certo Giovanna, però io chiedo agli amici che sono qui con me, Marco e Simona, di allungarmi una bustina di zucchero perché inizio ad avere la pressione bassissima e svengo, un attimo solo che mi danno sto zucchero, intanto continuo a parlare, mi fa svenire l'indignazione che provo per la censura, io non tolero la censura, un secondo, anche un po' d'acqua, mettilo nell'acqua per favore, no no, mettilo nell'acqua perché altrimenti non riesco più a parlare. Allora Giovanna, perché ho scelto il 17 febbraio? Mi senti? Sì sì sì, sì sì. Allora, ho scelto il 17 febbraio perché tutto questo digiuno è un fatto politico, non è un suicidio, io non sono un aspirante martire, non sono un kamikaze, io sono un attivista politico per i diritti degli animali e un attimo che bevo l'acqua zuccherata. Sì, tra l'altro ne approfitto mentre bevi per ricordare ancora una volta che tu stai chiedendo nient'altro che il rispetto della legalità, tu stai chiedendo che la regione rispetti le sue stesse leggi, quindi non stai chiedendo in fondo nulla di più di questo. Certo. Quindi deve essere una richiesta di tutti, non di una parte, per quanto ovviamente nobile, ma quella della tua cuore. Io chiedo, come diceva Vaclav Havel, che è il drammaturgo che è stato anche Presidente della Repubblica Ceca, lui dice che la legalità è la forza dei senza potere, è il potere dei senza potere e quindi io chiedo a tutti quanti quelli che ci ascoltano di non snobbare la politica, non snobbare mai le elezioni, anche se ci fanno andare a votare con una legge elettorale che i partiti avevano promesso e il nostro Morfeo, il nostro Presidente della Repubblica, di cui io mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, il Presidente della Repubblica aveva promesso che non saremmo mai andati a votare con questa legge elettorale e anche i partiti hanno avuto un'altra ogni tempo e se ne sono fregati, comunque noi andiamo a votare lo stesso, andiamo a votare perché la politica entra nelle nostre case sotto ogni forma, nella sanità, nella sicurezza, nell'ambiente, negli asili, negli ospedali, negli ospizi, quindi andiamo a votare sempre, andiamo a votare essendo informati, informiamoci e quindi torniamo al discorso perché ho scelto il 17 febbraio per decidere di iniziare lo sciopero della sete, perché se non hanno il 17 febbraio avrò alle spalle e addosso sul mio corpo 48 giorni di digiuno, se non avranno ancora legiferato non mi rimane altro che il digiuno della sete, il digiuno della sete con questo freddo mi dà un po' più di vita rispetto a un digiuno della sete quando è caldo, diciamo che avrò circa 7 giorni di vita, sono gli ultimi 7 giorni di campagna elettorale, io gli metto il mio corpo all'infine vita dentro la campagna elettorale per tenere dentro l'agenda politica i diritti degli animali e quindi come ha fatto Marco Pannella tante volte, i radicali tante volte, Gandhi tante volte e voglio ricordare Bobby Sands che è quello che mi ha ispirato a questa lotta politica non violenta, lui quando decise dopo 8 anni che lo torturavano, Bobby Sands era un attivista per i diritti dell'Irlanda del Nord, è stato 8 anni in galera, l'hanno torturato 8 anni, devo parlare più piano perché se no svengo, l'hanno torturato per 8 anni tutti i giorni del governo repubblicano e lui diceva noi non siamo dei detenuti comuni, non abbiamo rubato nessuno, noi siamo dei partigiani per l'Irlanda, voi dovete riconoscerci lo status di combattenti e di prigionieri politici, l'Inghilterra gliel'ha sempre negato la Thatcher e lui dopo 8 anni di torture ha iniziato uno sciopero della fame e si è lasciato morire perché non gli hanno, mi devo fermare un attimo che mi commuovo, l'hanno lasciato morire, lui e altri mi sembra 8 partigiani. E quindi consiglio a tutti quanti di vedere un bellissimo film che il regista è Steve McQueen, omonimo dell'attore e c'è Fassbinder, un attore molto bravo, consiglio a tutti quanti di vedere questo film che è molto crudo, ti dà dei gran calci nel cuore mentre lo vedi, ma guardatelo perché fa bene. Sì, il film si chiama Hunger e confermo che è un film… Esatto, mi sfuggivo il titolo. Sì, sì, ascoltami Davide, purtroppo il nostro tempo è terminato e devo chiudere per lasciare spazio alla trasmissione successiva. Senti, io ti ringrazio tantissimo di questa intervista che ovviamente ti è costata fatica perché dopo 39 giorni di sciopero della fame, anche parlare per mezz'ora costa fatica, ti ringrazio tanto e noi continueremo a seguirti, a sostenerti in tutti i modi non violenti con cui potremo sostenere questa iniziativa. Io mi complimento ancora con te per la tua forza e francamente mi auguro con tutto il cuore che tu lo sciopero della sete non lo debba mai iniziare. Giovanni, mi lasci 30 secondi? Sì, ci sono proprio 30 secondi. Allora, volevo chiedere a tutti quanti di essere il mondo che vogliono vedere, come Valera Gandhi. Quindi vi invito a collegarvi a www.cambiamenu.it e smettere di mangiare carne, smettere di mangiare gli animali perché non si può amare qualcosa che poi decidiamo di uccidere e nutrircene. Quindi diventate almeno vegetariani se non vegani. Grazie a tutti. Grazie Davide. Ciao. 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 Grazie a tutti. Ciao.